Perplessità su un eventuale nuovo ospedale cittadino, carenza di organico medico infermieristico, deficienza nei lea e i livelli essenziali di assistenza, sono alcuni dei punti al centro della conferenza stampa organizzata dalla CGL durante la quale si è parlato delle criticità nella sanità in provincia di Catanzaro. In apertura agli interventi, in primis, la nostra vicenda dell'integrazione delle aziende ospedaliere Pugliese-Ciaccio-Materdomini e il mancato coinvolgimento del sindacato. Ci aspettiamo che da domani la struttura commissariale e l'università ci dicano quelle che sono le loro intenzioni. Poi c'è anche la questione che riguarda la costruzione del nuovo ospedale, dove noi siamo stati abbastanza chiari. Noi non siamo contrari alla costruzione del nuovo ospedale, però vorremmo ragionare insieme a quelle che sono le autorità che devono prendere queste decisioni di valutare quelli che devono essere un utilizzo corretto di tutte le strutture che sono presenti nel territorio della città di Catanzaro. In alternativa alla costruzione di un nuovo ospedale, la CGL invita a tenere in considerazione le vaste aree inutilizzate del Policlinico Universitario di Villa Bianca insieme alla ristrutturazione dell'attuale sede del Pugliese. Allora, noi possiamo procedere all'integrazione fra le due aziende, Policlinico e Pugliese-Ciaccio, e integrandone anche gli spazi. In questo modo non togliamo nulla a nessuno e diamo maggiore fruibilità per quelle che sono alcune criticità del sistema sanitario regionale ai cittadini calabresi. Ripeto, abbiamo delle volumetrie impressionanti ancora inutilizzate. Tutta questa diatriba che si è concentrata attorno alla figura di chi doveva essere il commissario ha purtroppo in questi due anni incancrenito ed aggravato le già precarie e fragili criticità che c'erano. Ci mancherebbe altro. Le situazioni si sono acuite, si sono aggravate su un tessuto che era già fragile di per sé, non ci sono dubbi. Come si può garantire gli stessi livelli essenziali di assistenza ai cittadini se 4 anni fa c'erano 5.000 operatori in più e adesso 5.000 operatori in meno. Con delle condizioni anche dal punto di vista logistico delle strutture che sono in condizioni molto precarie, che scoppiano. Se su questi temi rispetto alle nostre azioni rivendicative e rispetto alle problematiche che noi abbiamo posto arriveranno delle risposte, bene, altrimenti valuteremo anche da soli come CGL ad intraprendere azioni di denunce e di protesta mirate perché i cittadini calabrese non possono più attendere ad avere una sanità che non garantisce ILEA in maniera dignitosa come vengono garantiti in altri punti del Paese.